Sì, direi mettiti in becca Salve centiponenti, questo è il mio sonatex e oggi siamo qui in Cominemarket su Fortnite, signori! Sì, stiamo registrando tutte queste partite in un giorno, quindi siamo ancora carichi per la vittoria di prima, cambia un po' le cose E adesso cerchiamo di portarci un altro in saccoccio, comunque fare una bella partita Vabbè, buona buona, vediamo cosa ci esce Ci vediamo in partita Nell'erciume, cerca Sì Comunque quando noi hai giocato te, neanche io ci ho giocato praticamente, cioè ci ho giocato pochissimo Vabbè, 6 e 90 Perché ho fatto una giornata di farming di missioni dove le ho finite tutte Non posso, non ce la faccio Va bene, va dal buco, senti È gioinato Kain di nuovo, cacciamolo Tanto crash B Mincola Kain di nuovo, cacciamolo Ma questo barbone Cosa fai? You are mining or you are get mining? No, no, non lo stiamenando E' molto di dire una granata in faith Oh, eh, oh, Gesù Cristo is a forza non abbiamo ancora fatto fare le scolini dentro a quest'albero c'era un pompe ok lasciami qualcosa che io pensavo che ti fosse più l'ultima c'è grande le scolini stiamo sfasciando questa casa fortissima allora tieni ti posso dare questo e questi c'è un tipo dove ma da dove è arrivato sarà arrivata la dal robo dove ci sono le piste mi ha fatto malissimo stato il compagno di quello che uccise il paterno o uno scolino vende e un ente che non non hai colpi medi 0 c'è una storia ok 0 che il tasano nel 137 di legno siano 213 no zi lasciamo a me e posso staccare le vende ma come ho visto prendere te vabbè no ce l'hai tu che bello che sarebbe se tipo le ceste droppassero più di un'arma magari una più rara o no 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 hai detto che bello che bello che sono le ceste una le ceste droppassero più armi per me di armi ce ne sono abbottando sì ma fanno schifo vabbè ecco perché ce n'è sempre sia sempre così pochi colpi di lancia messi se ne trovano due alla volta adesso due beh anche prima no no anche prima se ne avevano pochissimi anche se ne trovano i tre però poi gli altri te ne tirano 50.000 come quel tizio e tu ne hai settimana all'inferno alla fine perché è negro se ne trova che non ha la schiena se quello là non vi usci c'era un tipo nella bostaglia comunque la la dentro c'è sempre dell'internet se tutte le volte l'ultima volta che secondo lui c'era l'intorno a quella casa lì ma donna se non c'è chi non c'era anche qualche scar m4 azzurra vabbè non c'è servito atti uguale più kill non ne avremmo fatte no io avrei giocato allo stesso identico modo che non sarei morto nella testa dopo il marmocchio no sta per volare giù ma quanta vita hanno sti negri mi ha ucciso uno mi ha sparato ha sparato tempestine come prima zia anche prima qua avevo trovato le tempestine ah no le ho ritrovate nel boschetto siamo ancora in 41 ma l'indalino c'è uno che non c'è uno che non c'è dove di qua no va bene eh sei bene bene fatto ah io ne ho 15 eh scudini incide anche tu no no dito aiuta gente o granate me ne tengo al posto della mitraglietta sei paxerello quest'oggi ok quel tizio alla aimbot mi ha praticamente blindato si viene qua c'è uno scudo per te eh chi se ne frega sta arrivando fortissimo è un omega giallo arrivo ok lo sta nominando vieni ho lo scudo qua eh qua dentro anche c'è uno scudo eh le vende però c'è anche tu qua c'è una c'è una gana azzurra volevi si si me lo sono portato io e l'altro madonna in cielo son finiti si vieni qua vieni qua vieni qua sotto veloce arriva arriva scusa è che avevo preso una mi ha preso un un gioglio c'è un posto albero ok ma preso 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 oh gesù vieni non passo scappa non fregartene di loro ok capito tutto vedi vabbè non me ne frega c'è ancora l'omega giallo schifoso si è tratta nel malbero mi sono in cielo no dai si 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 vieni qua vieni di qua vieni di qua vieni di qua vieni verso safe corri poi ce li facciamo in safe perché si 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 muovono continuo a rimanere la lucida si ha battuto bravo quante kill due cecchino viola e oppure un cecchino normale ah no è un po' io sono messo malissimo ce ne erano altri quanti scudi ovunque ma te abbiamo già vinto guarda oddio questi sono dieci scudini infiniti e questi sono altri cinque madonna mi a me ne prendo dieci si siamo di nuovo un casino fuori safe dobbiamo correre aspetta let me get the freaky trappola mi prendo un m4 schifoso ok qua c'è uno scudo tondo me lo faccio poi corriamo fortissimo ma vabbè la prima safe siamo in 25 vai corri e si ha già messi bene no era double scudo grosso vabbè mi tengo di bene uguale io un cecchino viola eh 10 scolini come colpi come sei messo va bene 19 pompa 148 medi e 43 altri ingrati io ho 415 medi 93 pompa e 90 cecchino poi ti do va bene ma non mi serve hai un launchpad non lo so no solo due trappole io ho tre di quelli schifi e tre trappole e gli schifi sono inutili perché poi non puoi metterli instant cioè li puoi mettere instant metti un muro poi metti quello poi fra mezz'ora si attiva e ti spinge ma inizio sentimola subito tutti tutte le cose che mettono le potenze tipo la doppia pistola che c'è adesso è fortissima adesso l'ha già usata no l'ha preso sulla montagna quando chi l'ha due due te mi ha fatto gente un po' a casa la mutare di prima l'abbiamo registrata ne abbiamo fatte prima non me ne sono assolutamente reso conto la tempesta madonna però tanto guarda racconta perché si è messi bene se un po' triste però e io 10 potevamo unire tipo di poter prendere lo scodone uguale vabbè è uguale così ne abbiamo comunque di più di bene sì poi le bende sono utili bende scudini sono le link che si usano di più alla fine perché tipo per non hai mai se in endgame non hai mai il tempo di farti un chug giug e neanche un medikit andiamo su stavolta non c'è messi che ti esplodono è appena partite del gioco ok là c'è un sacco di costruzioni c'è un airdrop adesso ci basiamo un attimo qua sopra e vediamo si si giro 24 materiali ah scusa droppa c'è troppo qua dalla porta viene messa una porta qua dietro neanche non è che no troppi sono andati in un centinaio eccola davanti c'è gente preso uno col cecchino però sono un po' scema non gli ho fatto lecce preso un altro dove ti vedi sono di qua vedi lì che fanno bordare c'è neanche uno nella casa dove che mi ha sparato un centimetro la testa questa cosa lo compito in testa però l'ho preso qui ovviamente il colpo è sparito no 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 non lo so uccidere un'esparata in testa però mi sta tirando cose brutte cosa è successo no sono esploso no ho finito i materiali che cazzo dai ma questo è sto barbone da cristo sta aiuto eccoli sui buffi gesù cristo in bottiglia eh scusa eh vabbè questo qua questo qua madonna quante hack di nuovo mi spara perfettamente in testa ma deve scomparire ma poi cosa sono quelle granate cosa sono che esplodono a contatto con le persone che cos'è ma che granate sono sono le stesse le stesse di che cosa è un'altra in generale questo qua è un'altra